Il canneto rispunta i suoi cimelli nella serenità che non si ragna. L'orto assetato sporge irti ramelli oltre i chiusi ripari alla fastagna. Sale un'ora d'attesa in cielo vacua dal mare che si ingrigia. Un albero di nuvole sull'acqua cresce poi crolla come di cinigia. Assente come manchi in questa plaga che ti presente e senza te consuma. Sei lontana e però tutto divaga dal suo solco, dirupa, spari in bruma. Nel 1924 Eugenio Montale dedica ad una donna assente, guardate il verso 9, una poesia che non è certo fra le più conosciute, Diossi di seppia, la prima raccolta lirica del poeta, uscita nel 1925. La donna di cui si sta parlando è una donna spesso presente all'interno delle opere di Montale, chiamata qualche volta Annetta ed altre volte Arletta. È una vecchia conoscenza di Eugenio Montale, è un'amica della sua giovinezza e in questo caso non viene neanche chiamata per nome, perché simboleggia l'assenza per eccellenza. Vediamo come, rileggendo e commentando insieme questa bella poesia da Ossi di seppia. La struttura, come vedete, è molto semplice. La poesia si articola in tre grandi strofe, in tre grandi momenti. Sono tre quartine di endecasillabi con un'unica piccola eccezione. Il verso 6, infatti, è un settenario. Rileggiamo innanzitutto la prima delle tre strofe, che recita così. Il canneto rispunta i suoi cimelli nella serenità che non si ragna. L'orto assetato sporge irti ramelli, oltre i chiusi ripari alla fastagna. Ho evidenziato in verde in questa strofa e all'inizio della successiva alcuni elementi tipici di Ossi di seppia, che ricorrono anche in diverse altre poesie. Si parla di un canneto, a riga 1, di un orto, al verso 3, dell'afa, cioè della calura estiva, a riga 4, e poi ancora del mare, a riga 6. Sono elementi topici di Ossi di seppia. Li ritroverete anche in altri video. Vediamo un minimo di parafrasi, partendo proprio dai primi versi. Che cosa significa il canneto rispunta i suoi cimelli nella serenità che non si ragna? Si sta descrivendo un elemento del paesaggio. Un canneto compie un'azione, come se fosse una persona, è una personificazione. Il canneto fa rispuntare i suoi germogli, cimelli è una forma genovese, ligure, nella serenità che non si ragna, cioè in direzione del cielo sereno che non è percorso da nuvole che possono assomigliare ad una ragnatela. Dunque la natura sta rinascendo, siamo nella bella stagione, da un canneto spuntano nuovi germogli che si protendono come braccia verso un cielo completamente sereno. Osservate ora i versi 3 e 4. L'orto assetato sporge irti ramelli oltre i chiusi ripari, all'afa stagna. Abbiamo un secondo elemento del paesaggio, un orto, un giardino ligure, che è assetato. Evidentemente fa molto caldo, infatti si parla a riga 4 di un'afa stagnante. Siamo dunque in una giornata caldissima d'estate. E questo orto pieno di sete, una nuova personificazione, o nell'orto assetato, sporge, tende i rami ramelli dei propri alberi, rami che sono secchi, spinosi, il testo dice irti, di nuovo verso l'alto, oltre i chiusi ripari, oltre i muretti di recinzione di questi piccoli giardini al mare, in un clima che è fatto di afastagna. Dunque due immagini molto simili, che ricordano il gesto di alzare le braccia verso il cielo, come per rivolgere una sorta di preghiera, per esprimere un desiderio. E si prosegue poi con la seconda quartina, che dice così. Sale un'ora d'attesa in cielo, vacua, dal mare che si ingrigia. Un albero di nuvole sull'acqua cresce, poi crolla, come di cinigia. La seconda strofa segna un momento di cambiamento e di passaggio. Se osservate, i suoi primi versi sono ancora collegati alla prima strofa, alla strofa precedente, e dicono così. Dal mare che si ingrigia, verso 6, sale, vacua, cioè inutile, un'ora d'attesa in cielo. Vedete di nuovo l'idea di un movimento che dal basso procede verso l'alto. Dal mare, che sta diventando scuro, di colore grigio, dal mare che si ingrigia, sale, metaforicamente, un'ora d'attesa verso il cielo. Ma è un'attesa che viene definita vacua, cioè completamente inutile. Poi viene spiegato meglio nelle righe successive quello che sta accadendo. Un albero di nuvole sull'acqua cresce, poi crolla, come di cinigia. È molto bella questa espressione a rega 7. Delle nuvole, la cui forma assomiglia a quella di un albero, crescono sull'acqua, come verso il cielo. Possiamo pensare ad una tromba d'aria, oppure a una tromba marina che si sta formando e che sale verso l'alto, ma che poi improvvisamente crolla, cade verso il basso, come dice ninja, come se fosse una nuvola fatta di cenere che dall'alto precipita verso il basso. Di nuovo un'immagine di richiesta, di attesa, di tendere le braccia verso l'alto, verso il cielo, ma una richiesta vacua, dice il poeta rega 5. Poi crolla a terra come della cenere che torna sul pavimento. Tutto quello che è stato descritto sinora ha evidentemente un valore simbolico, metaforico. Sono delle immagini che corrispondono a uno stato d'animo, a un sentimento. C'è lo stato d'animo che l'io lirico, che Eugenio Montale sta provando nel ricordo di questa donna che è assente, e alla quale è dedicata l'intera terza e l'ultima strofa che vi ripropongo. Assente come manchi in questa plaga che ti presente e senza te consuma, sei lontana e però tutto divaga dal suo solco, di rupa spare in bruma. Ecco la donna con cui l'io lirico sta cercando inutilmente di comunicare. Tu che sei assente, tu che sei lontana, come manchi in questa zona, plaga significa territorio, ma è anche un termine che assomiglia a piaga, a ferita, in questa zona che ti presente, che ha come un presentimento di te, che si sta illudendo che tu fra poco comparirai in mezzo a noi, ma che è senza di te, e che quindi senza di te si consuma, si logora, si distrugge del dolore. L'idea dell'assenza, l'idea della mancanza, ed ora al verso 11 l'idea della lontananza. Sei lontana e però, forma arcaica col valore di perciò, siccome tu non ci sei, sei lontana, dunque tutto divaga dal suo solco, esce dal seminato, non procede più linearmente, in linea retta, dirupa, si distrugge quasi, spare in bruma, sparisce come in una nebbia. Molto bella quest'ultima immagine a riga 12, che richiama l'immagine altrettanto bella, presente a riga 8. Prima si diceva crolla come di cinigia, crolla come un mucchio di cenere verso terra. Ora si dice divaga, dirupa, spare in bruma. Divaga dal suo solco, si distrugge, crolla, sparisce come se fosse una nebbia, come se fosse polvere, si diceva prima. Dunque l'assenza, la mancanza, la lontananza di una donna molto amata, che ormai non potrà più tornare. La si può soltanto attendere, ma è un'ora d'attesa che sale verso il cielo, ma evacua, è vuota e inutile, in direzione di un mare che si ingrigia. Per concludere, vi rileggo questo testo molto particolare, complesso, pieno di metafore, pieno di belle immagini, che Montale compose probabilmente nell'anno 1924, dedicandolo a un suo vecchio amore, o almeno una sua vecchia conoscenza, ad Anna degli Uberti, che conobbe da giovane in Liguria durante le vacanze a Monterosso, e che compare un po' carsicamente, in maniera nascosta, in molte poesie di Ossi di Seppia, pubblicato nel 1925. Ecco a voi la rilettura del testo. Il canneto rispunta i suoi cimelli, nella serenità che non si ragna. L'orto assetato sporge irti ramelli, oltre i chiusi ripari, alla fastagna. Sale un'ora d'attesa in cielo, vacua, dal mare che si ingrigia. Un albero di nuvole sull'acqua cresce, poi crolla, come di cinigia. Assente, come manchi, in questa plaga, che ti presente e senza te consuma. Sei lontana, e però tutto divaga dal suo solco, dirupa, spari in bruma. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Se volete iscrivetevi al mio canale YouTube e lasciate un like prima di andare via. Grazie ancora tutti per l'attenzione e al prossimo video.